Hanno violato le misure restrittive della magistratura e sono tornati nuovamente in cella, arrestati dalla polizia di Gela. Si tratta dei fratelli Malvin e Igland Bodinacu, di 24 e 25 anni, di nazionalità albanese, volti conosciuti nel panorama criminale locale per diversi reati. Gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e repressione finalizzato al contrasto dei crimini contro il patrimonio, hanno fermato un veicolo sulla statale 167 bis Gela Catania, che viaggiava con affare sospetto. Si è immediatamente proceduto all'identificazione dei quattro soggetti che erano a bordo. Tra loro c'erano i due fratelli Bodinacu. In particolar modo, Igland è stato identificato e perquisito a seguito del tempestivo riscontro degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cui risulta sottoposto e dunque inattempiente. Sono scattate subito le manette. altrettanto è stato fatto con il fratello Malvin. Quest'ultimo è accusato di essere entrato illegalmente nel territorio italiano. Ed è la seconda volta che accade. Identico copione si è verificato mesi addietro. In violazione della legge, il 24enne ha continuato a risiedere in Italia. Anche per lui, come dicevamo, è scattato l'arresto. I due congiunti si trovavano in auto in compagnia di altri due familiari, anche loro con precedenti penali, e denunciati per il reato di favoreggiamento. La pericolosità dei fratelli Bodinacu, a seguito della notevole mole di reati contro il patrimonio, la persona, ed in materia di suevacenti ed il rischio concreto che gli stessi potessero scappare, ha indotto i poliziotti all'immediata traduzione nel carcere di Contrada Balate, a disposizione dell'autorità giudiziaria, diretta dal procuratore Lucia Lotti. La pericolosità della legge, la pericolosità della legge, la pericolosità della legge,